L'area interna all'ex carcere Sant'Agostino di Teramo non è in uso al comune ma è un'area demaniale. Lo dice il sindaco di Teramo Gian Guido d'Alberto che risponde alle critiche mosse dal consigliere Franco Fracassa. No, ma non è anche una risposta alle critiche. Ci sta che si facciano delle segnalazioni. È chiaro che quando lo si fa in modo confuso, improvvisato, superficiale, è necessario ripristinare. Un po' di dati reali che abbiamo ovviamente pazientemente, perché non ci sarebbe stato neppure bisogno di fare questo passaggio. Però l'abbiamo voluto fare anche insieme alla direttrice dell'Archivio di Stato con cui c'è stato un confronto, dichiarimento. Anche perché bisogna anche rispettare la posizione dell'Archivio di Stato. Ci scusiamo anche forse per questa azione che da parte di qualcuno è stata fatta quasi a mettere in discussione che la gestione oggi sia dell'Archivio. Dico purtroppo perché tutti quanti auspichiamo assolutamente a riprendere la gestione per poter restituire alla città un'area che per tantissimi anni purtroppo è rimasta inutilizzata e non a disposizione appunto delle iniziative, degli eventi culturali. Dunque quali sono i passaggi che dovrà fare l'amministrazione comunale? Esattamente quelli che stiamo facendo, accelerando il percorso. C'è stata una meritoria iniziativa, un meritorio impulso del consigliere Di Teodoro con il quale siamo già andati al Ministero a novembre. Abbiamo condiviso la linea da seguire, abbiamo approvato una delibera di giunta con cui abbiamo manifestato la volontà di restituire lo spazio alla cultura della città, non a parcheggi. Perché evidentemente qualcuno, uno dei motivi di stallo è stato questo, che qualcuno voleva destinare quell'area a parcheggio. Non è quello l'obiettivo, anche perché c'è stato il secco no ovviamente del Ministero. Il Ministero che ci ha chiesto poi la prescrizione di un'idea progettuale, su cui stiamo lavorando. Ecco il sopralluogo dell'altro giorno dopo l'emergenza Covid, per poter arrivare ad una gestione anche in forma magari condivisa, una sorta di couso con l'archivio di Stato, con il demanio, che gestisce meglio forse l'area, per poterlo restituire alla città. Quindi con grande serenità stiamo andando in questa direzione, anche perché se fosse vero che quell'area era in gestione del Comune da diversi anni, vorrei chiedere a chi ha amministrato per 15 anni perché non è mai stato tirato fuori questo problema. Ma stia tranquillo, il Consiglio è fracassa, che ringrazio per l'attenzione, che l'obiettivo che lui si era posto lo raggiungeremo noi.